Ok Chiara, ecco la pizza Ma sono patate No, è ananas L'ananas sulla pizza? Sì Ma mi vuoi far sentire male oggi? Dai, prova Va bene No Ma perché no? Non è per me Gli abbinamenti sono strani Pure il gusto è strano Ananas e pomodoro Non va, no Per me la vuoi pure buttare Via